amici di chiasso tv ci siamo siamo in collegamento con gianfranco vestuto che già conosciamo direttore di russia news e di varie di varie varie giornali vari giornali e varie riviste di comunicazione nel mondo eurasiatico fatti anche eurasia news fa parte del mondo e con lui parleremo oggi di quello che è successo in questi giorni ad astana in kazakhistan con la riunione del shanghai cooperation organization l'organizzazione di cooperazione di shanghai non che sia di shanghai semplicemente prende il nome della città che per prima una ventina d'anni fa ha ospitato questa riunione e che oggi come oggi raduna questa organizzazione più o meno la metà degli esseri umani che circolano su questo pianeta giusto gianfranco intanto grazie per il collegamento grazie 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 e quindi cos'è questo sc o shanghai cooperation organization che tu ha seguito direttamente e indirettamente attraverso anche i tuoi collaboratori sì sì diciamo che ormai sono anni che va avanti e se vogliamo è l'organizzazione di cooperazione prettamente diciamo economica rivolta più al mercato e rasiato sono due ovviamente le grandi organizzazioni che sono costruiti diciamo così all'erasio uno è il BRICS che conosciamo insomma dove c'è anche il Sud Africa c'è il Brasile e la sempre la Cina e tutto ma la Shanghai cooperation è rivolta in maniera particolare proprio al mondo eurasiatico insomma e ovviamente anche qui Cina e Russia sono i due capisalti insomma del di questa di questa organizzazione organizzazione che poi continua ad avere ad avere ad avere ad avere ad essere da parte dei paesi dell'area e dell'asiatica e che fanno stanno facendo capire insomma come come si stanno muovendo anche gli schieramenti diciamo dal punto di vista proprio anche economico che è la cosa più importante perché quello che bisogna far capire noi abbiamo un concetto della politica diciamo europeo che è quella della è quella della politica per la politica qui invece loro ragionano in base alla cooperazione economica e quindi gli accordi si fanno tra paesi soprattutto su questo quindi su grandi progetti e su diciamo sviluppo delle delle relazioni soprattutto economiche come dicevo questo questa è la differenza rispetto al ragionamento politico e su questo penso che Puddi sia stato diciamo lungimirante nel capire ma io penso che sia un suo modus operandi insomma nel capire che poi diciamo le adessioni le come dire anche le vicinanze rispetto al discorso poi politico vengono appunto prima come dire attraverso il meccanismo economico piuttosto per quello politico come dicevo questo questo è un po' lo spazio ecco infatti scusa scusa se ti interrompo infatti a leggere le relazioni che hai fatto tu ma anche che sono andate sul sito della SCO si nota una grande differenza di linguaggio di proprio di termine di parole rispetto alle corrispondenti riunioni del mondo occidentale mondo occidentale parla di supporto e sostegno alla guerra produzione di armi sviluppo dell'industria militare nell SCO nulla di tutto questo si parla di cooperazione si parla di sviluppo economico progetti per lo sviluppo cambia tutto cambia il tono cambiano gli argomenti cambiano le parole è un modus operandi come dicevo è proprio il il target su cui si costruiscono queste alleanze come come secondo secondo me dovrebbe essere le cooperazioni economiche il benessere dei popoli il benessere economico dei popoli in effetti è quello che poi fa partire tutto insomma questo è il giusto ed in questo insomma come dicevo prima Putin è stato lungimirante nel costruire queste due organizzazioni e nel fare adesioni se vogliamo anche il BRIC poi allargandosi come dicevo anche al Brasile e altri paesi ormai sono tanti anche i paesi arabi che ormai stanno entrando quindi è riuscito a mettere insieme come diceva anche giustamente tu è riuscito a mettere insieme anche eh paesi che rappresentano oggi eh siamo vicini quasi ai due terzi del dell'economia mondiale quindi si è creato un vero e proprio altro tra virgolette polo economico che eh insomma eh non è eh non possiamo dire anche più alternativo perché quello che è destinato a come dire a sostituire quello eh tra virgolette europeo o quello americano che in effetti eh va un po' a andrebbe un po' a ruoto con le due superpotenze appunto Russia e Cina che trainano il resto del il resto del degli aderenti e in questo insomma abbiamo visto anche poi eh come come si sono in questa ultima proprio in questa ultima importantissima secondo me eh riunione di eh di Astana in Kazakistan della della scuola eh come come si sono aggregati dei paesi che magari prima di tipo la Turchia l'Azerbaijan sono paesi anzitutto ricchissimi prima di tutto ma paesi che più mondeggiavano un po' tra la l'area diciamo filo europea americana e quella diciamo russa da cui sono più vicini insomma ehm Udine scusa perché tra l'altro leggendo l'elenco degli stati che ne fanno parte o che dialogano con l'SCO viene fuori che c'è un blocco euroasiatico che è enorme perché comprende praticamente quasi tutto il continente euroasiatico dalla da Leningrado fino alla Mar Cinese e poi giù fino all'Oceano Indiano tutto questo blocco che tra l'altro è dove risiede la gran parte dell'umanità perché l'India l'India è un miliardo di persone la Cina è un miliardo e mezzo poi ci sono paesi popolosi come Pakistan Iran la stessa Russia c'è veramente almeno la metà del genere umano che è raccolto in questo blocco e poi ci sono tutti gli osservatori che comprendono paesi come l'Egitto anche lì sono un centinaio di milioni di persone la Turchia altro paese popoloso ci sono parecchi parecchi stati che o per popolazione o per disponibilità economica sommano a creare questo affare di questo SCO veramente una potenza però una potenza che non vuole omologarsi al suo interno vuole invece sottolineare le rispettive caratteristiche assolutamente sì eh ricordiamo che poi proprio in questa riunione eh di due giorni fa in effetti è aderito anche l'altro che faceva l'osservatore ma che comunque faceva parte del blocco dell'Asiatico che era la Bielonussia e è ufficialmente aderito quindi ecco è stato un po' un ehm come dire come saldare un po' anche poi i ragni fra di loro quindi ci sono state anche eh ci sono si sono ravvicinate ancora di più ma soprattutto se noi pensiamo ecco parlavamo prima dell'Azerba a parte la Turchia si sa che è un paese comunque però per esempio l'Azerba è anche uno dei paesi più ricchi dell'Azerba perché eh è fornitore per esempio anche di di gas attraverso il TAP che sarebbe la eh il gasdotto che porta il gas anche in Europa attraverso la Puglia eh attraverso il sud Italia e quindi immaginiamo che eh pur essendo un paese dal punto di vista così geografico eh eh piccolo grande come come se fosse la regione Lombardia la Svizia ecco per capirci però è un paese di una ricchezza immensa perché è fornitore di di materia prima nel caso in particolare anche il gas quindi eh l'aggregazione è forte quindi oltre all'aspetto demografico che giustamente sottolineare ma c'è un aspetto proprio di ricchezza quando io dico che siamo vicino ai due terzi della ricchezza mondiale e non dico sciocchezze nel senso che ci sono anche eh paesi ma se parliamo anche appunto del del ragionamento anche dei paesi arabi che hanno capito e si stanno voltando da quest'altra parte insomma un po' è un blocco e un asiatico che dice guardate c'è uno scontro avete fatto la guerra perché insomma come come è evidenziato poi anche lo stesso Medvede il presidente l'ex presidente anche russo ehm l'attuale vicepresidente del consiglio di sicurezza della federazione russa ha detto sì ma eh lì eh sicuramente anche per quanto riguarda il caso Ucraina di cui si è parlato molto anche con la visita poi successiva di 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 Orban del presidente del primo ministro inglese a Mosca e diceva a Medvede ma guardate che qui questi non non e sarà difficile fare la guerra smettere la guerra a trovare un punto di pace perché in effetti eh è l'America che spinge per per mantenere la per mantenere la questa questo conflitto russo-okaino pensando di indebolire la parte russa ma così non è stato così come non come abbiamo detto più volte non sono servite le sanzioni cioè loro si sono creati un sistema economico hanno bypassato ormai anche il dollaro le quotazioni in dollaro e in euro utilizzando un sistema prettamente ero asiatico che fa riferimento allo yuan eh cinese quindi eh anche sul discorso delle sanzioni è stato un eh ecco scusa a a proposito delle valute nazionali vedo all'interno dei documenti dell'SCO che non c'è un progetto di costruire un mostro come l'euro ma c'è anzi una spinta verso la valorizzazione delle singole valute nazionali perché ognuno deve mantenere la sua indipendenza la sua sovranità finanziaria e di bilancio esatto è il famoso tutto sommato progetto anche del mondo multipolare no del del progetto di Dugin e il progetto diciamo eh di Putin e più volte viene nominata l'eurasia che ormai è una realtà l'eurasia già da anni eh fa eh incontri l'ha fatti anche nel passato anche in Italia quando non c'erano i problemi ci sono state pari di noi quindi abbiamo partecipato anche come come media partner e quindi hanno già i loro ministri si sono già strutturate come se fosse una un'organizzazione che però a differenza dell'Europa che eh ha ha imbrigliato i paesi attraverso dei contratti eh diciamo sovranazionali che mh che reprimono quella che poi la sovranità dei singoli paesi qui invece ci parliamo di un ragionamento di cooperazione perché la cooperazione implica il fatto che tu sei libero di fare quello che vuoi però su determinate su determinati argomenti noi creiamo e e favoriamo soprattutto perché perché la cosa importante è questa vengono favoriti anche i singoli scambi commerciali che secondo me ecco appunto è la libertà di mettere in movimento e in moto quella che è l'economia che ripeto è il fondamento del benessere e la cartina torna sole di tutti eh di tutti i paesi quindi del paese anche dei singoli paesi questa insomma è un po' la 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 differenza quindi mh che l'euro sia alla fine dei dei suoi giorni ormai si è capito mh tanto è vero che come abbiamo visto mh c'è stato anche il fatto che l'altra l'altra cosa importante che paesi come la Francia e la Germania hanno continuato così come risulta dai dai dati hanno continuato a fare eh economia e business anche nel settore del gas e del ehm diciamo delle forniture di idrocarbure hanno continuato a fare il business con la Russia perché poi se vogliamo la Russia che ha le due grandi società l'Ucoil e la Gazprom che distribuiscono il gas e l'idrocarbure in tutto il mondo anche quando per esempio si è detto no ma noi abbiamo fatto accordi con la con la Tunisia ma chi distribuisce il gas della Tunisia? Lo distribuisce la L'Ucoil che è il più grande e il gigante. Esatto. Quindi alla fine alla fine insomma fa ridere questo questo discorso c'è un monopolio da questo punto di vista insomma e tra l'altro questi paesi ricchissimi come per esempio anche la Zerbace che citavo prima sono paesi che nonostante siano fornitori già stanno avanti forse probabilmente pure più di noi rispetto alle eh energie alternative cioè sono paesi che stanno investendo capendo che ci sarà un futuro e loro utilizzano la loro ricchezza a differenza di quello che fanno i paesi arabi per ostentare palazzi diciamo così e grattacieli vari ma ostentano eh invece loro pensano al già al futuro insomma quindi per questi paesi che problema hanno con la fornitura degli idrocarburi invece loro già stanno pensando alle energie alternative che secondo me è è una cosa importantissima mentre noi che cosa facciamo? Siamo tornati indietro a pensare invece a tornare indietro anche sulle centrali nucleari di una volta insomma e quindi non c'è non c'è un piano non c'è un progetto europeo ma esiste sicuramente questo è fondamentale un progetto allo Stato eh più avanzato anzi direi avanzatissimo dell'Eurasia questo è il discorso quindi quando a novembre vedremo come cosa succede anche in America ma mi pare che diciamo lo scenario sia confermando quelle che sono le previsioni quindi un'elezione diciamo di Trump in quel momento vedremo il mondo cambiare questo è il discorso l'Europa non lo so eh ripeto paesi come Germania e Francia intelligentemente hanno cominciato a virare sì ma noi non attaccheremo noi non daremo le armi più alla alla Ucraina quindi possiamo parlare della Germania e della Francia che sono la sottatura di questa Unione Europea quindi eh credo che il ragionamento vada vada fatto in maniera in maniera concreta da questo punto di vista c'è un una situazione che è a termine e a termine e quindi novembre dovrebbe essere poi la la deadline di di questo cambiamento ecco vedremo perché appunto di di cambiamenti in questo momento all'interno del blocco occidentale se ne stanno manifestando diversi a parte le l'iniziativa di Orban poi c'è le elezioni nel Regno Unito che hanno indicato che qualcosa si sta muovendo anche lì c'è quello che sta succedendo negli Stati Uniti con le elezioni per il presidente della Casa Bianca insomma qualcosa si sta muovendo vedremo intanto grazie a te eh i nostri amici di Chiasso TV hanno cominciato a capire un po' che cos'è questo Shanghai Cooperation Organization quindi e le differenze che ci sono tra l'SCO e l'Unione Europea per esempio che anche in Svizzera comunque è di grande richiamo è di grande interesse perché bene o male la Svizzera è tutta circondata dall'Unione Europea quindi non può sicuramente fare a meno di colloquiare e di relazionarsi con l'Unione Europea però c'è l'SCO che è costruito su tutt'altri pilastri vedremo cosa succederà insomma intanto Gianfranco grazie mille per averci spiegato e raccontato che cos'è questo nuovo mondo multipolare che si sta formando e di cui l'SCO è uno dei rompighiaccio diciamo quindi vedremo poi verso la fine dell'anno che cosa succederà con con tutte queste novità politiche intanto grazie ancora e arrivederci a voi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti i chiudere il vostro presidente Bielorussi e, ovviamente, e Presidente Bielorussi Alexander Grigoglio Lukašenco con il suo завершimento procedura di ristruzione Repubblica Bielorussi in polpravlare i cittadini Schanhaica organizazione di сотрудnismo. Russia ci ha dato molto significato partenere per la sottoprere in rammatica. Choss. S'autorizzamento e constati, che questo interesse continua in continuo sviluppo di rincipare in rispettere di rispettere di un'interessa a di un'interesse di un'interesse, di un'affreddere di culturalo-civilizia, di un'esplice collegiali rispettanti di rispettere in sostenibilizzati. Per attivare il contribuzione di cazaharmano colleghi, a attrezzare alla nuova società di sono stati disponibili è davvero un paccionato documenti e rischi. La loro realizzazione, ovviamente, potrebbe aiutare a un'imprimere la role e la влиanza del SHOZ. Soglossavano i подходi del SHOZ a un aspetto globale e regionale di postura di Dnia si sono iniziati a adobrere la sammite dell'Astamina Deklarazione. In cui, finalmente, высвечивается приверженность всех участников ШОС a formazione справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной ролi Organizzazioni Объединённых Наций, на международном праве, на стремление suverenni государств a взаимовыгodному partnérству. Dolgosrочные ориентиры для дальнейшего углубления взаимодействия non solo in politica e безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях содержатся в проекте решению о разработке стратегии развития ШОС до 2035 года. Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства 4,5%, в то время как уровень инфляции всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчётах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организаций по итогам первых четырёх месяцев текущего года уже превысила 92%. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма. Свой весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносит регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав Минфинов и Центробанков, динамичной работы деловой совета организации, с помощью которого бизнес-круги наших стран имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам. Вопросами финансирования таких проектов плотно занимается Межбанковское объединение Шанхайской организации. Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остаётся поддержание безопасности в государствах-участниках и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займётся реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе. В борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утверждаемая нами трёхлетняя программа сотрудничества в этой сфере. Вызывает удовлетворение, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодёжные обмены. Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. На регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов, а также недели образования, помогающие налаживать связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором. Координирующую роль в расширении молодёжных контактов играет Молодёжный совет ШОС, созданный по инициативе России. Весной этого года страны объединения приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи и в молодёжной конференции, посвящённой межкультурному диалогу. Ждём представителей всех ваших стран, дорогие государства, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе «Бизнес-инкубатор ШОС». Уважаемые коллеги, в нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная инициативная оппозиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Появляются и укрепляются новые центры силы и экономического роста. Убеждены, что шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС являются основными опорами на рождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности. Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие решения о выдвижении, которые мы должны принять сегодня. Эта инициатива чётко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе. Таких мер, которые гарантировали бы условия для устойчивого роста всем в равной степени, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенности культурного уклада. К слову, в таком же русле идёт предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванные прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали одностороннее преимущество только отдельным государством. Результат такого мироустройства известен. Растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых, безусловно, является и украинский. Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Мы неоднократно выдвигали на этот счёт конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное, её западных спонсоров принять его позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры. Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы. Считаем правильным, что Шанхайская организация и сотрудничество традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС-Афганистан. Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране. К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии, пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего, это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе газа. История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности, США, разрубить палестинский узел и отказа от исполнения решений ООН, которые четко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины. В общем, вопросы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности как на пространстве Евразии, так и в более широком глобальном измерениях, настойчиво требуют от ШОС и её государств членов активной вовлечённости, энергичной выверенной линии, учитывающей чаяние наших единомышленников из числа стран мирового большинства. Уважаемые коллеги, как уже подчёркивалось, по мере укрепления авторитета и влияния ШОС растёт интерес к её деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к её работе. И, естественно, нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать. Завершая, хочу поблагодарить казахстанских друзей за организацию нашей встречи и, конечно, пожелать успеха председателю Китайской Народной Республики, нашему другу Си Цзиньпиню и всем китайским друзьям, которым после нынешнего саммита приходят функции председателя в организации. Благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова